Ciao a tutti, siamo a Plan de Corones per il Cronpaz Air, siamo con Lucas Schaeffer che è il campione locale. Che emozioni hai? Cosa significa per te gareggiare in casa? Molto bello, molto bello. Io non faccio più così tante gare come ho fatto e così è super di fare una gara anche a casa con tutti gli amici che guardano e avere tutti gli amici qua che ho incontrato anche anni fa alle gare. Come mai fai meno gare? Perché non mi piaci più così tanto perché ho iniziato tanto tipo a far fresca e a filmare, tipo sto filmando per un progetto tipo un sci movie. Lo condividi su internet? Sì, lo condivido il 25 dicembre. Ma tornando alla gara pensi di il fatto che sei in casa e ti carica di più punti alle prime posizioni? Vedo perché voglio divertirmi, quella per me è la cosa più importante e ho sempre i miei trick e se mi sento posso ben fare trick anche difficili ma vedo. Ieri in conferenza stampa parlavamo di questo grande salto, ci vuoi dire qualcosa? Perché è un grande salto? Perché è così particolare? È bello che è un salto grande perché hai tanto tempo in aria anche per fare dei trick anche per farli stilosi e per fare un tipo un flavor tipo il mio style o roba. Hai tanto tempo anche a tirare i greppi e anche è bello tipo volare. Hai detto che sono 20 metri, più di 20 metri? Più di 20 metri per andare in atterraggio ma di solito salti di sicuro 25 metri o anche alto di 8 metri. Tu mi hai detto che hai iniziato giovanissimo. Sì. E cosa è che ti piaceva da ragazzino? Cioè la sfida con gli amici del fare i salti, l'adrenalina, le emozioni, l'avevi visto in tv? Cosa è che ti piaceva? Beh io ho iniziato a sciare come spesso in Alto Adige tipo con 2-3 anni. Poi ho fatto, volevo fare tipo gare di race ma poi ho iniziato a girare con i snowblades e mi sono divertito un sacco solo a saltare con gli amici. Era tipo una cosa più libera del sci alpinismo. E poi tipo un amico era qua nel Vitamin F Freestyle Club che era a Plan del Corone e poi ho iniziato là e poi mi piaceva un sacco. Erano tipo dei 5-6 anni pensavo solo a sciare. E adesso... Ma come mai proprio il Freestyle? Cioè ti piacevano... Mi dà un tipo un feeling stra bello tipo quel kick di adrenalina che mi piace un sacco anche. Tipo io scio per i miei feeling perché mi sento stra bene quando scio e ho sempre una forza dentro di me. Tipo quando scio faccio il trick o faccio una salita rifresca. Tipo va fuori questa energia e poi mi sento super carico e super happy. Tante cadute anche da ragazzino per imparare. Sì, sì, certo, certo. Fanno parte del gioco. Va bene allora? In bocca al lupo per domani. Grazie, salut.